Di nuovo interenta dalla Festival della Giustizia Penale di Modena, ci ha raggiunto qui in postazione Mark Gozzi, direttore di Ohio Innocence Project. Quindi di errore giudiziario stiamo parlando, ci dà una mano per la traduzione Martina Cagossi, che prima è stata tra l'altro nostro ospite e a cui abbiamo appunto fatto domande proprio sull'errore giudiziario. A Mark Gozzi, al direttore, chiedo questo. Quali sono i numeri, in questo momento attualmente, i dati più aggiornati, degli errori giudiziari negli Stati Uniti? Ad oggi si registrano oltre 2.400 casi di errori giudiziari e in globale, how many years they served? 22.000 e in tutto hanno scontato 22.000 anni in prigione nel globale, ma noi sappiamo che questa è solo la punta dell'iceberg. Qual è il sistema di garanzia per riparare negli Stati Uniti all'errore giudiziario? Quali sono i meccanismi, i strumenti che avete negli Stati Uniti per cercare di fare un remedio, per rinforzare queste errori? 25 anni fa, non c'erano i remedie, quindi abbiamo dovuto combattere per creare i remedie, e è stato un processo slow processo stato per stato. Per esempio, l'accesso al test del DNA dopo che la condanna di Stati Uniti è stata molto dura, per cercare di far riconoscere questi strumenti, per esempio, l'accesso al test del DNA dopo che la condanna di Stati Uniti è stata molto dura, diventa definitiva. Per cui oggi un detenuto può dire, sono in prigione da 20 anni, ritestate o fate per la prima volta il test del DNA. Sì, sì. Ma non è solo il DNA, quindi ogni nuova evidenza che serviva, che sia forte evidenza dell'innocenza, il giudizio può andare in giudizio e chiedere di rinforzare la revisione. In realtà è molto difficile, quindi l'evidenza deve essere molto forte prima che i giudizi lo considerano. Ovviamente non c'è solo il DNA, ci sono dei momenti, dei casi in cui non è neanche disponibile il DNA, quindi ci vogliono però comunque delle forti prove di innocenza per cui noi riusciamo a riportare i casi in corte. Ovviamente è molto molto difficile, quando ci sono nuove prove che non si hanno il DNA, riuscire a fare questo. Un'ultima cosa, qual è dunque lo stato di salute, alla luce anche degli errori giudiziari della giustizia americana? Sì, in light also of wrongful conviction, what is the status, the current status of your criminal justice systems? How is doing? There are many problems and flaws in the criminal justice system, and it's very, very slow to change. We're starting to make slow and gradual changes, but it's going to take decades. Ci sono molti problemi in corso che sono difficili da cambiare, ma ci stiamo provando, ci vorranno anche molti altri, però noi stiamo lottando per questo. E noi ringraziamo qui dalla Corner di Giustizia Caffè di Modena, dal Festival della Giustizia Penale, Mark Gozzi, che è il direttore dell'Ohio Innocence Project. Grazie. Grazie mille.